Oggi verso le 8.20 abbiamo saputo che c'è stata una telefonata al comando della Polizia Municipale di Perugia dove una persona, parlando in italiano ma dal forte accento arabo, ha parlato di una bomba a Corte d'Appello di Perugia in nome per vendicare i fratelli di Amassi. Questo è quello che sappiamo. Naturalmente per quanto riguarda queste allarmi c'è stata l'evacuazione del Palazzo di Giustizia. Poi adesso sono arrivati i artificieri sia dirigenti urbani che forze pulizie che fanno i controlli per vedere se si tratta di un falso allarme o qualcosa. Per quanto mi riguarda io dal 9 ottobre ho fatto intensificare tutte le misure di sicurezza dei Palazzi di Giustizia dell'Umbria, solo di Perugia. E ho fatto anche la comunicazione al prefetto ricordando come i Palazzi di Giustizia sono obiettivi sensibili. Dottor Sottani, quali erano i riferimenti in questa telefonata? La telefonata ovviamente io non la conosco ancora e si parlava appunto di fratelli di Amassi e di una bomba a Corte d'Appello.